E insomma è venuto fuori che avere una bottiglia nel culo non è ben visto dalle tribù indigene indonesiane. Assurdo. Oh, questa è finita. E la buttiamo nella plastica che così salviamo il pianeta. Sei serio? Certo, perché? Cioè, tu credi di salvare il pianeta facendola differenziata? Sììììì? No, non ci siamo. Ehi, non per terra! Non si inquina l'asfalto, Luca, è già inquinato. Ma fammi capire. Lo sai vero che della plastica il pianeta se ne fotte, sì? Cioè, sai che noi dobbiamo salvare noi come specie, non il pianeta. In che senso? Nel senso che il pianeta di quello che facciamo se ne sbatte. L'inquinamento, i rifiuti, quella roba tocca a noi, siamo noi che ci crepiamo qui, non il pianeta. E quando noi saremo spariti, puff, il pianeta si metterà a posto e ricomincerà tutto da capo. Non ho capito perché mi stai rompendo le palle. Perché chi dice di voler salvare il pianeta non ha un concetto chiaro in testa. Significa che si crede più importante di ciò che è e significa che non sa per cosa sta facendo ciò che fa. Dobbiamo salvaguardare l'ambiente, sì, ma dobbiamo farlo per noi. Cioè, finora ho contribuito a salvaguardare gli esseri umani? Sì. E gli altri animali? Sì, fanculo gli animali. Quindi, non il pianeta? No. Siamo nullità, Luca. La nostra presenza qui è un granello di sabbia nella spiaggia del tempo. Ma che cazzo fai? Ci uccido tutti. Tutti!